Ieri tardo pomeriggio quando c'è stata la chiusura totale della statale 47, tutto il traffico pesante che deve andare verso Trento, verso Feltre, si è incolonnato nelle nostre strade provinciali e comunali che passano in centro paese. Di conseguenza ci siamo trovati nella condizione di dover intervenire con la protezione civile, con quello che potevamo fare con la nostra polizia locale e anche col supporto di alcuni cittadini, devo ammettere, perché la strada più breve che davano i GPS era quella del Monte Grappa e di conseguenza qualche camion si è incolonnato lungo la Cadorna nel tentativo di oltrepassare questo che è uno snodo abbastanza cruciale. E quindi ci troveremo tutto il traffico pesante riversato sulle nostre strade. Quello che è l'incrocio, la grotatoria che vedete alle mie spalle, sarà lo snodo per tutti i camion che dovranno andare verso Feltre, addirittura verso Trento. E di conseguenza anche quello che è una ipotesi di viabilità alternativa deve essere valutata attentamente ma soprattutto con tempestività. Già deve essere valutato con tempestività il fragile equilibrio della rete viaria che attraversa i nostri paesi, perché la chiusura dell'SS 47 Val Sugana dopo la caduta del Massa a Val Brenta con traffico pesante off-limits sta provocando disagi importanti che vanno a gravare sull'intero territorio interessato, arrivando sino al Trevigiano con la deviazione sulla feltrina dei camion per raggiungere Trento. Il sindaco Bontorin, come il collega di Val Brenta, punta il dito contro una viabilità non tenuta nella dovuta considerazione. È evidente che la Val Sugana torna come priorità assoluta. E ieri sera quando c'è stato il blocco del traffico si è, come al solito, visto che manca un protocollo di chiusura per quello che sono i comuni sui quali grava il traffico quando si va con la viabilità alternativa, prima cosa. Seconda cosa, la Val Sugana è oggetto di studi che vanno avanti ormai dal mio inizio mandato, ma penso anche nei precedenti 30 anni e adesso ogni volta ci si trova a dover fare i conti con il fatto che la Val Sugana è uno snodo strategico e non ha l'attenzione dovuta. E su una cosa non transige. L'emergenza non deve durare mesi, non deve durare settimane, deve durare qualche giorno.